Ci troviamo in via dei Frassini, zona torraccia di Pesaro, al mio fianco una tenso struttura che dal mese di novembre è diventato un luogo di culto e un luogo di aggregazione. Anche pochi giorni fa ha visto radunarsi una nutrita comunità di fedeli per le celebrazioni dell'Epifania a conferma di un luogo che mancava proprio in questa zona. Da un po' di tempo abbiamo cercato di creare un po' una presenza anche della nostra comunità cristiana in questo grande quartiere, nuovo quartiere di Pesaro, in cui non c'è una chiesa, non c'è nulla. Il giorno dell'Epifania c'è stata una bella presenza e una bella risposta dei fedeli di questa zona. Abbiamo celebrato la Santa Messa dell'Epifania con l'arrivo dei Remagi e poi la tombola con i bambini, l'arrivo della Befana. È stato veramente molto bello, proprio perché si sente anche l'esigenza di una presenza che possa animare questo quartiere. E quindi un grazie anche a tutti coloro che si sono dati da fare per organizzare questi bei momenti. L'iniziativa è partita verso maggio scorso dal volere del Vescovo Sandro Salvucci, che ha mandato tanti di noi, appartenenti alle diverse realtà diocesane, a iniziare quest'opera di evangelizzazione porta a porta, per portare un messaggio di vicinanza anche a questo quartiere. Devo dire che a oggi, vedere comunque queste iniziative che sono continuate nel tempo, hanno portato a partecipazione, appunto come ha detto Don Michele, sabato 6 gennaio c'è stata tanta partecipazione ed è per noi motivo di gioia e di entusiasmo a continuare quest'opera, che devo dire è anche nel cuore di alcuni abitanti del quartiere. Infatti è nato un piccolo comitato che consta a diverse persone che abitano qua e quindi per noi è proprio segno e conferma che l'opera deve andare avanti e crescere. Inizialmente la mia casa è stata proprio utilizzata un po' come sacristia, quindi in questa tensostruttura non c'è nulla, quindi non c'è nemmeno la luce, quindi io ho aperto le porte di casa mia per dare proprio la prima corrente elettrica. E poi ovviamente da qui è nato, diciamo, questo comitato, come diceva prima Erika, che piano piano si è ingrandito e che diciamo che è esploso con la celebrazione del 6 gennaio, con la messa e con la festa per i bambini per l'Epifania e come confermava Erika siamo stati veramente molto molto felici di questa grande partecipazione e questa grande risposta da parte del quartiere. Quindi speriamo di continuare e di fare sempre meglio per far sì che più gente del quartiere possa partecipare. Epifania ma non solo, ci saranno altri appuntamenti in quella che è una comunità pastorale nascente in cui Don Michele Rostini è stato delegato dalla Vescovo come parroco moderatore. Ecco, certamente sì, è una realtà un po' nuova che è nata, all'inizio siamo partiti un po' titubanti, almeno io anche un po' a volte, diciamo, un po' sfiduciato perché pensavo che non ci fosse una gran risposta. Invece, devo dire, soprattutto in questa zona della Torraccia, la gente è veramente contenta di creare un punto di riferimento della comunità cristiana qui in questo luogo. Speriamo anche che questa cosa cresca sempre di più, quindi l'augurio che ci sia veramente sempre di più una risposta, soprattutto di questo nuovo quartiere. Grazie.